Questo trattato settimo che andiamo a leggere del Corpus Hermeticum è breve, ma è anche importante, ed è una esortazione contro la agnosia, contro l'ignoranza di Dio. Infatti si intitola Il male più grande tra gli uomini è l'ignoranza riguardo a Dio, che appunto in greco è tu, teou, agnosia, cioè del Dio, la non conoscenza. Quindi l'ignoranza fondamentalmente del divino, cioè che è il contrario di quello che invece è un percorso gnostico, cioè di conoscenza, di gnosi, o sarebbe meglio dire di gnosis, perché appunto in greco il segno gutturale gn si pronuncia gn, quindi agnosia, naturalmente è essenziale, anche nell'ermetismo, così come in molte altre posizioni gnostiche e tradizionali. Quindi, così recita, dove andate mai, uomini, ubriachi, voi che avete bevuto fino in fondo il discorso schietto dell'ignoranza, e qui proprio ignoranza è agnosias, appunto, che non riuscite nemmeno a sopportare, ma che ormai state addirittura per rigettare, fermatevi, divenite sobri, guardate in alto con gli occhi del cuore. Anche qui ritroviamo questo tes cardias toys of Thalmois, che è con gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, che abbiamo già visto in passato. Ebbene, quindi con gli occhi del cuore, e non potete farlo tutti, lo facciano almeno coloro che possono. Il male dell'ignoranza, infatti, inonda la terra, corrompe l'anima rinchiusa nel corpo, senza lasciarla ormeggiare nei porti della salvezza. Il corpo è, in qualche modo, la tomba dell'anima, no? E, come diceva Platone, sema, cioè sia segno ma anche gabbia dell'anima. Non lasciatevi il trascinare sotto, dunque, dagli ingenti flutti, ma, approfittando di una controcorrente, voi che potete giungere al porto della salvezza, gettatevi l'ancora e cercatevi una guida che vi mostri la via fino alle porte della conoscenza, là dove c'è la luce splendente, pura da ogni oscurità, dove neppure uno è ubriaco, ma tutti sono sobri, guardando in alto con il cuore verso colui che vuole essere guardato, infatti, non lo si può udire, né descrivere, né vedere con gli occhi, bensì soltanto con l'intelletto e con il cuore, no? Qui ancora Nus e, abbiamo visto, il cuore, no? Quindi Cardia, Kai Cardia, quindi con l'intelletto e con il cuore. Fondamentali queste categorie di comprensione, no? Cioè intuitivamente, attraverso un sentimento intuitivo, potremmo dire. Ma, in primo luogo, occorre che tu strappi tutto attorno alla tunica che indossi, il tessuto dell'ignoranza, il supporto della malizia, la catena della corruzione, il carcere tenebroso, la morte vivente, il cadavere dotato di sensi, la tomba che porta in giro assieme con te, il ladro che abita nella tua casa, colui che ti odia per le cose che ama e che invidia per le cose che odia. Tale è il nemico che tu hai rivestito come una tunica, che ti stringe e ti attira a sé, in basso, per evitare che tu guardi verso l'alto, veda la bellezza della verità e il bene che in esse risiede, e prenda così a odiare la sua malvagità, avendo compreso l'insidia che esso ha messo in atto contro di te, rendendo insensibili gli apparenti organi di senso, avendoli ostruiti con molta materia e riempiti di un puro piacere impuro, di un piacere impuro, perdon, affinché tu non possa né udire quello che devi udire, né vedere quello che devi vedere. Ecco, con questa lettura che finisce qui ed è estremamente breve, abbiamo proprio un invito al non condizionamento, al non farsi condizionare, a distaccarsi dai condizionamenti della società, che sono sempre condizionamenti negativi, che ci trascinano in questo vorticoso degenerare morale, ma non soltanto dalla società, ma soprattutto da ciò che noi siamo, perché siamo inseriti in questo contesto di corruzione, e quindi dobbiamo andare controcorrente, ma per andare controcorrente innanzitutto dobbiamo combattere contro noi stessi, potremmo dire che il nemico è già in casa, è sempre in casa, siamo noi stessi, perché lo abbiamo, in qualche modo, durante tutta la nostra esistenza, sempre adorato, l'abbiamo adornato anche, lo abbiamo messo al centro, abbiamo messo al centro il corpo, abbiamo messo al centro certi valori, abbiamo messo al centro la morte, anziché il risveglio, cioè questo cadavere che è il nostro corpo, abbiamo messo al centro dei disvalori, quindi il ladro che si è impossessato di noi, deve essere allontanato il prima possibile, per poter pervenire alla conoscenza della verità e della bellezza, la bellezza è to callos, cioè il bello, il bello in sé, che è il bello della verità, to callos tesaleseias, questo è fondamentale, poi ancora il bene, to agathon, quindi la bellezza della verità e la bellezza del bene, il bene in sé che risiede nella verità stessa, quindi recuperare questo tipo di conoscenza è un invito che ci viene fatto qui nel corpus ermeticum, non sappiamo chi pronunci queste parole, non sappiamo chi sia l'autore, ma questo non è importante, perché il messaggio è universale, il messaggio passa al di là del suo, di chi se ne fa veicolo, e chi se ne fa veicolo è appunto un tramite, un tramite di una verità che in quanto tradizionale è nel trapasso, nel trans, nel transitare, quindi nella tradizio, nell'essere detto attraverso le generazioni, al fine di annunciare dal passato un messaggio che è sempre vivo per il futuro, in quanto è eterno, in quanto è sempre valido, questo è il punto della tradizione, questo è il punto di questo incitamento, che è valido sempre di andare controcorrente, contro i condizionamenti per ritrovare la propria essenza, per ritrovare la verità, il bene, il bello, per ritrovare quindi l'unico Dio, che è la realtà ultima, è la realtà unica, all'interno della quale sempre siamo, e che ci consente di esistere continuamente, noi come tutto il resto di ciò che è e anche di ciò che non è, come abbiamo visto, anche di ciò che non è innanzitutto e per lo più sensibilmente dato. E così concludiamo anche questo pur breve passaggio del Corpus Hermeticum, per poi vederci con l'ottavo trattato del Corpus.